buongiorno sono luca grecchi questo breve video è solo per annunciare l'uscita imminente di un libro di enrico berti il libro si intitola le prove dell'esistenza di dio nella filosofia enrico purtroppo non ha potuto annunciarlo in quanto come molti sapranno è mancato il 5 gennaio 2022 lasciando un grande vuoto tra i familiari tra gli amici e tra gli studiosi che per decenni hanno potuto offrire dei suoi libri nel mio caso anche dei suoi consigli preziosi questo libro il titolo del libro già è indicativo dell'argomento sono appunto considerate le principali prove da aristotele fino alla filosofia contemporanea sviluppata nella storia della filosofia per sostenere la tesi dell'esistenza di dio è un libro che prende spunto da una serie di lezioni tenute dal professor berti alla facoltà di teologia dell'università di lugano nel 2009 l'argomento di cui abbiamo sempre parlato molto realizzai all'epoca una trascrizione commentata di quelle lezioni ci scambiamo il file con i rispettivi commenti per quasi un paio d'anni dopodiché quel file è rimasto nei nostri computer per quasi una decina d'anni fino a che lo scorso anno su sollecitazione dell'editore Enrico Berti ha deciso di pubblicare il testo non ha potuto purtroppo dare la revisione finale al lavoro e come da suo desiderio ho cercato di realizzarlo al meglio con una piccola nota accenno anche ad un testo invece questo già uscito da poco sempre di Enrico Berti una nuova edizione ampliata di un suo testo del 2011 invito alla filosofia è un testo che si potrebbe considerare un testo divulgativo ma chi si è cimentato in questo genere di opera cioè nel rendere nella maniera più semplice possibile un tema complesso sa che si tratta di un'operazione tutt'altro che facile un'operazione peraltro in cui Berti aveva una grande capacità il rendere semplici anche le cose più complesse frutto sicuramente di un dono di natura frutto di una capacità affinata negli anni ma frutto se meno si concede di una finalità etico educativa che Enrico Berti aveva quando Berti scriveva un libro come quando faceva lezione come quando partecipava ad un convegno la sua preoccupazione prima era valutare chi aveva di fronte e per esprimersi poi esprimere i propri contenuti nella maniera in una maniera tale che nessuno che tutti potessero fruirne diciamo così nella maniera massima che nessuno potesse rimanere indietro perché la sua concezione della filosofia era quella di un sapere importante che andava messo in comune che solo se condiviso nella maniera massima poteva dare i suoi frutti più ampi e più belli questo era era il carattere della della persona che che è mancata e quindi merito dell'editore scuola morcelliana anche il fatto che in questo 2022 e agli inizi del 2023 potremo sentire ancora la voce di Enrico nei libri perché in programma in uscita quest'anno vi è l'ultimo tomo dei nuovi studi aristotelici di cui sono già usciti sei tomi e ci sarà appunto il settimo a mia cura e poi a gennaio una nuova edizione di un testo pubblicato negli anni 70 ma che ha bello a scarsissima diffusione e che si intitola ragione scientifica e ragione filosofica nel pensiero moderno sarà appunto il modo di avere ancora con noi coi libri uno dei più grandi studiosi e dei più grandi storici della filosofia nostri contemporanei